Per i sei candidati alle primarie del centro-sinistra al comune di Termoli è piena campagna elettorale per l'appuntamento di domenica prossima dal quale verrà fuori l'aspirante sindaco della coalizione. Tra incontri ufficiali e contatti dentro e fuori al partito si lavora per raccogliere consensi per la sfida 4 interna al PD tra Oscar Scurti, Antonio Russo, Michele Giuliano e Angelo Sbrocca, che sono in Lizza insieme al candidato di SEL Simone Coscia e ad Antonio D'Ambrosio che ha incontrato i cittadini al porto turistico accompagnato dagli esponenti regionali dell'Italia dei Valori. Dalle primarie si capiranno i veri equilibri, il messaggio lanciato durante la presentazione delle linee guida di Paolo Marinucci, che dopo essersi tirato fuori dallo scontro interno al centro-sinistra si pone come candidato sindaco autonomo di uno schieramento civico appoggiato da tre liste, libera termoli uniti per cambiare e l'altra sinistra in attesa di rifondazione, sviluppo sostenibile, lavoro, ambiente, cultura e diritto all'abitare alcuni spunti di un programma che punta sull'ascolto e la partecipazione. Restano le incognite nel centro-destra dove slitta mercoledì pomeriggio il vertice romano con il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Rotondi, dal quale potrebbe arrivare l'investitura ufficiale di uno dei tre nomi circolati in questi giorni, l'assessore provinciale Rita Colaci, il consigliere uscente Francesco Roberti e Antonio Di Brino, un nome quello del sindaco fatto decadere su quale sarebbe pronto a convergere il nuovo centro-destra per un discorso di continuità e se non sarà possibile organizzare le primarie in tempi strettissimi, primarie valutate anche da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che ha chiesto l'apertura immediata di un tavolo politico. L'Udicino non ha ancora sciolto le riserve, ma ha annunciato che sarà pronta a partecipare agli incontri anche con un candidato di bandiera. Al lavoro c'è di sicuro l'ex sindaco Remo Di Giandomenico. Dopo l'esperienza da consigliere di opposizione, la sua candidatura prende di nuovo forma e potrebbe contare già su quattro liste. Non si tratta di colori politici, affermato Di Giandomenico, ma di una coalizione termolese che vuole riunire la città e mi sta chiedendo di mettermi in gioco ipotesi che sto valutando. Per il Movimento 5 Stelle è arrivata la certificazione della lista, che potrà così utilizzare il simbolo ufficiale di Beppe Grillo, candidato sindaco dei Pentastellati, e Nicolino De Michele, che ora insieme agli attivisti e cittadini sta lavorando sulla lista e sul programma, che sarà anche frutto delle proposte raccolte durante il giro di tutti i quartieri della città.